Capitolo 5 I CLIENTI Io mi sono bevuto gli anni miei a sorsetti, fumato pipe di emozioni mancate. L'ho prostituito il mio tempo, messo al bando. A poco prezzo però, solo 2 dollars, come dicevano le signore nell'immediato dopoguerra da dentro gli interstizi dei tramezzi con la gola secca e lo stomaco azzeccato. Dicono che la perfezione non esiste, ma sono tutti distratti. Si sono dimenticati di una cosa, della consuetudine. Ed è per questo che andavo avanti, per la consuetudine. Volevo solo arrivare ad aprire una porta, invece ho sbattuto la testa contro un muro. Si chiamava futuro. Che cazzo ci campo a fare? Mando alle cianze. Io campo e ho sempre campato per abbattere quel muro, una volta e per sempre. Certo, adesso devo ammettere, con il senno di poi, che ci sono dei vantaggi enormi a non sapere niente del mondo in cui ci stai dentro. Quando lavori sempre e ci vivi come un estraneo, diventi come un vecchio pezzo del motore di una Fiat 127 montato ad anno su una Ferrari. Non sapere niente del viva la destra, viva la sinistra, viva il centro. Per me la politica è sempre stata solo chiacchiere, monche del distintivo. Non mi sono mai interessato all'evoluzione dei gialli in tv legati agli omicidi in famiglia e nemmeno di Montalbano che li risolve. Riguardo al calcio, poi, solo una piroetta di Maradona vista al novantesimo minuto e niente di più. Poi, aggiungo, il vantaggio enorme di non soffrire di continui eccitamenti preceduti da squalli debattute, vedendo culi latini ondeggiare in televisione accoppiate a musichette fasulle. D'altronde non sono più un ragazzino e tutte le donne che in passato mi hanno fatto arrapare adesso avranno le pacche mosce e pure le zizze. Ma la vera esenzione dal malanno del vissuto quotidiano è un'altra. Il fatto di essere completamente estraneo all'inquietudine del terrorismo e poter andare in qualsiasi momento e in qualsiasi parte del mondo senza paura alcuna. Si gode, credetemi, a stare come gli alberi in mezzo alla città ed essere scossi dal vento solo quando arriva. Ma nelle giornate calme l'albero è fermo e nessuno manco si accorge che esiste. Per fortuna Celentano ha cantato la via Gluck. Per anni sono stato il protagonista delle vite altrui. Le ho derubate, le ho fatte mie. I clienti importanti del ristorante erano tutti i miei creditori perché oltre ad affogare le loro amarezze con tutto ciò che gradivano mangiare io ero soprattutto lo strozzino delle loro amarezze. Mi divertivo a fare il gioielliere dei gusti altrui appropriando di delizia i loro palati. In cambio mi elargivano i loro traumi a interessi astronomici ma lo dovevo fare perché, come diceva mio zio, gli amici sono pochi ma le persone che ti servono sono molto di più. Per cui accontentiamo l'avvocato Siniscalchi, amante della frittata di Bucatini, che ha una bella mogliettina, pure lei avvocatessa, ma che si è sempre scopato un altro perché lui non ha mai stato in grado di fargli raggiungere l'orgasmo. È omosessuale secco, ma è costretto a reprimersi con la scenetta del matrimonio per non disubbidire a una tradizione familiare di avvocati di presunta eterosessualità falsamente indicata dalla figliolanza. Al notaio Galizzi gli preparo la zuppa di carne cotta come stracotto. Ormai è il cancro che tormenta la moglie. Ha una casa che pare una farmacia e fare l'elenco adesso sarebbe solo un modo inopportuno di pubblicizzare le lobby. E tutti quelli che ci stanno dietro, sfregandosi le mani. Passiamo al dottor Costanzo, primario al Cardarelli e alle sue trasferte a New York. Belle, ricche e saporite come le fritture di pesce che ama mangiare, ma spudoratamente false, perché tutte le volte se ne va sulle spiagge di Cuba con il sigarone in bocca per scappare dai figli tossicodipendenti che lo hanno pure preso a schiaffi e sputato in faccia. Il giovedì sera si presenta il questore Gargiulo, amante degli sciagliatelli all'ostice. Affoga nel piatto il dolore di un figlio diversamente abile su una sedia a rotelle. Il comandante della polizia municipale, signor Lambiase, ogni venerdì abbottona tutte le sue medagliette scintillanti sul mancato privilegio di vedere il suo figlio Lodovico al posto suo che invece passa le notti in minigonna e calzerete nei pressi della stazione centrale facendosi chiamare Vilma, la regina del marciapiede. Io gli preparo lo spaghetto alle vongole e a lui gli passa la paura parlando continuamente del Napoli e delle partite che vede ogni volta accomodato in tribuna allo stadio San Paolo. Ho saputo che esulta come un indemoniato ad ogni gol, un uomo da curva, anello superiore, mal adattato, come Vilma del resto. La domenica, eccolo, presentarsi con tutta la sua bella famigliola in stile brambilla, l'architetto Costa ordina gli antipasti dello chef e gli gnocchi di spinaci, con speck e provola. Sta da tempo ormai cacato sotto perché si è preso degli impegni con delle persone che non ha potuto rispettare, persone che fanno paura. L'hanno già minacciato più volte e ora vive con l'ansia continua e il forte ansiolitico nel borsello sempre a seguito, come la carta d'identità, per far fronte ai suoi improvvisi attacchi di panico. L'esattore Chillici, spesso e volentieri, mi viene a raccontare che sta spendendo un sacco di soldi con l'escort. Mi racconta tutti i particolari dei rapporti, compreso gli extra, ai quali non sa rinunciare e gli costano il triplo. Ha già impiegato la sua casa al mare a dischia ad insaputa della moglie. Quanta falsità e poca clemenza possiede la coscienza. Mi vogliono far credere che spolverano tutti i giorni il loro bel dolore, che tentano di lucidarlo, ma non fanno altro che spostare di poco il coperchio dalla pentola per dargli quel minimo di sfiato, per poi ricoprirlo di nuovo ermeticamente. Prima o poi ve lo dico io come va a finire. Si brucia tutto. Dopo che si sono confidati con me nello strato di transizione che vigila tra il vapore e il pavimento della sala, io mi giro verso la cucina ancora da ripulire e penso alla sporcizia che intasa le coscienze degli uomini. Per ripulirle non bastano gli sgrassatori e nemmeno i vecchi rimedi della nonna a base di aceto, limone e bicarbonato. Poi mi volto di nuovo verso la sala in direzione dei tavoli vuoti e il mio morale diventa un letamaio. Sono la tovaglia sporca del loro tavolo e la pezza che lo deve pulire. Assorbo tutto il sudiciume che lo sovrasta e mi sovviene la mia casetta Amalia e i figli miei che mi aspettano. Così provo a fatica a disintossicarmi sangue e ventre. Questi sono poveri uomini importanti sì ma con il cuore elastico. Gli altri invece sono assai pericolosi. Sono i cannibali delle alture i fabbricatori degli attici nei quali vogliono accomodarsi e fanno di tutto per terminare il cantiere prima possibile e fanno di tutto per terminare il cantiere prima possibile questi amanti del potere sfrenato. Fanno uso di premi celati operai non pagati morti bianche e mazzette. Le loro gesta stanno tutte mostruosamente fritte sulla loro coscienza che svincola dalla mia come un numero sulla fascia del top player in Champions League e continuano a falsificarsi con l'utilizzo di rime astruse eloquenze benevoli formidabili ma per loro non c'è panacea. Planeranno tutti dimessamente nel loro intimo dispregiato e smunto. Poi ve li racconto.